l'esclusione dalla nazionale la famiglia di le sfide di un atleta eccezionale le sfide di un atleta eccezionale caterina bosetti una nota pallavolista italiana ha recentemente suscitato scalpore con la sua esclusione dalla nazionale la sua famiglia che la supporta in questo momento difficile gioca un ruolo fondamentale nella sua vita e nella sua carriera la decisione di non convocare bosetti per la squadra nazionale è stata considerata da molti come sorprendente e ingiusta i responsabili della federazione italiana di pallavolo hanno giustificato l'esclusione anche con la necessità di inserire giocatrici più giovani nel roster la situazione contrattuale e le diverse prestazioni nelle competizioni internazionali sono state citate anche come fattori determinanti le atlete sono state spesso il volto del volle italiano in passato e hanno portato molti successi a questo sport di berichterstattung über bosettis situation zeigt wie wichtig der leistungssport für die identità vieler athleten ist es wird spekuliert dass neben sportlichen gründen auch persönliche konflikte eine rolle gespielt haben könnten experten aus der sportpsychologie weisen darauf hin dass der druck auf leistungssportler enorm ist und dass die mentale gesundheit ein zentrales thema in der athletenbetreuung darstellen sollte in einem interview beschrieb bosetti die situation als äußerst belastend wobei sie dennoch betonte dass sie sich nicht von rückschlägen entmutigen lasse la copertura della situazione di bosetti mostra quanto sia importante lo sport professionistico per l'identità di molti atleti si specula che oltre a motivi sportivi potrebbero aver giocato un ruolo anche conflitti personali gli esperti di psicologia sportiva sottolineano che la pressione sugli sportivi di elite è enorme e che la salute mentale dovrebbe essere un tema centrale nell'assistenza agli atleti in un'intervista bosetti ha descritto la situazione come estremamente stressante ma comunque sottolineato di non farsi scoraggiare dai fallimenti la sua famiglia l'ha incoraggiata a pensare positivamente ea mantenere i suoi obiettivi ha dichiarato che i suoi genitori sono sempre al suo fianco e offrono supporto anche nei momenti difficili questo è un fattore determinante per la sua resilienza e la sua passione per lo sport della pallavolo e in alcuni dei suoi colleghi di circolo si sono detti scioccati dalla decisione dell'associazione molti di loro hanno sottolineato che bosetti era stata una giocatrice importante per la squadra e che la sua esclusione potrebbe influenzare la dinamica della squadra un ex giocatore della nazionale ha dichiarato che si dovrebbero sempre affrontare tali decisioni con attenzione poiché non riguardano solo la carriera di un singolo atleta ma anche l'intero team rimane aperta la questione su come sarà composta la nazionale in futuro la direzione sportiva si è concentrata nel formare una squadra più giovane con un obiettivo a medio termine eppure le opinioni sugli effetti a lungo termine di questa strategia sono divise mentre alcuni vedono la necessità di attuare il ricambio generazionale altri sono favorevoli alla conservazione dell'esperienza tra le giocatrici per bosetti stessa il futuro resta incerto ma guarda avanti con una determinazione che non viene mai meno si prevede che nei prossimi mesi valuti le sue opzioni e potrebbe eventualmente attivarsi in altri campionati la pallavolo rimane per lei una grande passione che non vuole abbandonare nonostante tutte le avversità gli eventi riguardanti caterina bosetti mettono in luce quanto siano complesse le dinamiche nello sport professionistico sarà interessante osservare come si svilupperà la sua carriera e quale ruolo avrà la sua famiglia nel supportarla in questa fase difficile report di anita fache lunedì 12 agosto 24